Vai allora, boom Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Guardate con chi sono, vediamo se ve lo ricordate Scrivete nei commenti chi sono Prima sfida video rimorchio che abbiamo fatto Che ha superato le 5 milioni di visualizzazioni Ciao a tutti raga Ho dovuto subire tanti di quegli schiaffi Esatto, tutti i veri fan sanno com'è finita Oggi siamo qui per fare a distanza di un anno La seconda parte per risfidarci e vedere cosa succede questa volta Ovviamente io sono fidanzato quindi Olli baci sulla guancia Vi dico già che questo video si dividerà in due parti La prima parte che troverete sul suo canale E la seconda sul suo canale che trovate il link in descrizione Niente, vediamo cosa succede Lasciate like e fate il video Possiamo fare un gioco per Youtube? Molto veloce? Un secondo, no, nulla, molto semplice A uno un bacio sulla guancia e a uno uno schiaffo Oddio no, prima mi prendeva lì La fai tu allora Vai a uno un bacio sulla guancia Si tratta di a uno dare un bacio sulla guancia e a uno dare uno schiaffo Non fa niente, non fa niente Perché stiamo facendo una sfida Chi prende più baci e chi prende più schiaffi In realtà dovremmo andare a prendere il treno E se facciamo due minuti veloce? Molto easy Veloce, 50 secondi Ma così a caso? Così a caso Posso far tipo testa croce? No, 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 a uno a caso Io dall'altro così No, a tutti facciamo un torto Ok No, ma dai No, dai Non fino a domani Ma a caso? E lo devi darlo a schiaffo Ma piano Allora la faccio piantare Vai, tutti fanno sto ragionamento Forte o piano? No, piano, è forte Dai, perché fai a... Medio Eh, difficile Eh, no È facile, dai Ti dico, c'è la sua finanzata qua, quindi... No, non devi fare le cose C'entra niente No, perché lui... No, sulla guancia, eh Bastardo che vuoi corrompere Punto e meno Punto e meno Uno che fa così No Vai, vai allora Boom Tiè, prenditelo, vediamo Aia Questo me lo sono meritato Allora Boom Boom Ecco Tiamo bene Io cambio Ecco, esatto Almeno Boom A posto Stiamo facendo la seconda parte La prima ha fatto 5 milioni di visualizzazioni Quindi la stiamo rifacendo Io me l'ho preso solo schiaffo Ti dico No, non devo mutarla sull'alto tenerezza Sì, sì Vai, veloce Così Lui mi ha detto che se hai preso gli schiaffo Ha trovato l'ombardo Vedi, l'ha fatta apposto Bastardo Boom Ok, va bene Vai Andrà a caso Sì, a caso Vai Piano lo schiaffo Magari Ah, scusa Meglio Vai Dai, al contrario Sì, vai Ok Ragazzi Attenzione Stiamo pareggiando Siamo Quanto a due clip Però Esatto Vediamo Come va a finire Vediamo Stiamo facendo una sfida Di chi rimorchia di più No, baci sulla guancia Quindi a uno Dovete scegliere che date un bacio E un altro uno schiaffo Dovete decidere Perché stiamo facendo una gara Per forza, sì Facciamo una gara Chi prende più basi Chi prende più schiaffo Racconto di Luigi, eh Racconto di Luigi Racconto di Luigi Racconto di Luigi Vai in telecamera Racconto di Luigi Racconto di Luigi Eh Noi siamo molto curiosi Esatto Boom Vai Due, due Doppio schiaffo Vai Boom Vai Come ti senti? In colpa In colpa? Ma che in colpa? Questa fidanzata? No, no Stanno tutti i tuoi baci sulla guancia No, devi dare per forza Uno schiaffo Uno un bacio Allora hai dato il bacio Boom Non avevo mai voluto Dare il suo contesto Oh, tutti Oh, a Milano L'abbiamo fatto a Bologna L'abbiamo fatto a Bologna Lì menavano di brutto Invece a Milano È pronto No, vabbè È una gara Così un gioco Un bacio sulla guancia Sì, sulla guancia Vai Boom 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 Ecco qua fanno tutti il contrario Vai Ah, tutti e due il bacio Va bene Vai, va bene Ma può andare bene Sì, la più carica Boom Ah, proprio così Proprio con tutta la mano Ragazzi, niente Siamo a non sa quante clip E stiamo Stiamo pareggiando No, ci deve essere anche lui Stiamo facendo il video Stiamo facendo un botto di clip E stiamo pareggiando Assurdo A Bologna Tutte che menavano Sono proprio Pam, pam, pam Milano Sono gentili Grazie Vediamo come continuo Samuele No No, non sono io No, sì È una cosa molto semplice A uno un bacio sulla guancia A uno uno schiaffo Boom Boom Al più non proprio pianissimo Ok Possiamo fare un video per Youtube Un gioco Molto easy No, è semplice Non molestiamo Siete famosi? Sì Siamo famosi Allora, questa è la seconda parte Come vi chiamate? Samuele di Martino Come vi chiamate? Samuele di Martino Nick Questa è la seconda parte Un video che ha fatto Non mi fa parlare? Posso? Andate Questa è la seconda parte Un video che ha fatto 5 milioni di visualizzazioni No? Quindi la stiamo riproducendo Qui a Milano È una sfida dove uno a uno Dovete dare un bacio sulla guancia E uno a uno schiaffo Questo Ah, ho capito Capito, l'hai visto? Ok, sì Perfetto Dobbiamo decidere noi? Sì Sì No, uno che passa Glielo chiedi Vedi cosa c'è Vabbè A seconda dei bus Esatto Sì Sì Su di voi Sì Se non fossi tinto L'avrò dato a te Ma guarda che io sono bello naturale Non è vero Non è vero Non è vero È tinto È tinto È tinto È tinto È tinto Perché sto parrucchiera No, è tinto Si vede No, tinto Eh, vabbè Ma non è che dobbiamo stare a discutere sul tinto No, eh Raga, apriamo il dibattito Esatto Sondaggio Vai Vabbè, te lo schiaffo Eh, dagliolo Vai Tieni il bacio Io il contrario Vai Ok, perfetto Niente ragazzi Il video finisce qua Spero vi sia piaciuto Scusatemi se faccio l'outro qui a casa Ma ci siamo dimenticati di farla Quindi la faccio qui Questa volta è finita con un pareggio, regà Assurdo Cioè, non me lo sarei mai aspettato Però Prossima volta vinco io Perché Già lo sapete Hashtag È ovvio Lasciamo almeno per questo video 10.000 like E scrivetemi sotto nei commenti Se volete un'altra sfida di Morchio Sempre con Nick Oppure con un'altra persona O con la mia ragazza Come abbiamo già fatto Eh, scrivetemi qui sotto nei commenti tutto Vi ricordo di seguirmi su Instagram Samuel di Martino underscore Iscrivetevi al canale per arrivare ai 400.000 Noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao